L'ex terrorista rosso Cesare Battisti chiede perdono per le vittime degli attentati negli anni 70, ammette le sue responsabilità politiche, ma nega la sua partecipazione diretta agli attacchi. Allo stesso tempo l'ex membro dei PACI, proletari armati per il comunismo, respinge il pentimento. Non mi piace la parola pentimento, dice è un'ipocrisia. E alle dichiarazioni di Cesare Battisti ha replicato poco fa il ministro degli esteri Franco Frattini. Che sentiamo? Sono dichiarazioni orribili, che ovviamente non meritano nessuna risposta da parte istituzionale. La risposta che merita l'ha già avuta da parte dei familiari delle sue vittime, di quelli che lui ha ucciso, perché lui ha ucciso e su questo le sentenze di condanna parlano chiaro. Il Brasile deve comprendere che ormai è il momento serio di dare corso a quella richiesta italiana che ho formulato già da tre settimane, di costituire il collegio di conciliazione per andare alla Corte Internazionale. Se il Brasile non lo farà, sarò costretto a rivolgermi da autorità alla Corte Internazionale per far nominare il collegio.